ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scherzo moderato oggi vi voglio dare tre notizie di cose successe negli ultimi dieci giorni quindi veramente recentissime ma prima di darvele voglio partire da un articolo di un anno fa del vice direttore di ansa ok perché le due cose sono collegate molto diciamo da un filo conduttore culturale a cui arriveremo un po alla volta ora cosa diceva questo signor polli che come ho detto non è il neolaureato che scrive nel corriere di piangipane è il vice direttore di ansa un anno fa a pochi giorni dall'insediamento del nuovo presidente degli stati uniti joe biden perché stiamo parlando di gennaio joe biden si è insediato se ricordo bene il 19 il 20 di gennaio 2021 scriveva in anzi commentava in un'intervista che trump è inquietante e divisivo ha inoculato il virus del trumpismo parto dalla parola divisivo perché è una parola importante è una delle parole chiave che ormai regnano sovrane nei discorsi progressisti sia in america che in italia cosa vuol dire divisivo perché fra l'altro poi arriveremo a un altro concetto fondamentale divisivo vuol dire molto semplicemente molto stringi stringi tutto ciò che tu dici e che tu pensi che potrebbe farmi sclerare non lo devi dire perché altrimenti sei divisivo non è colpa mia se esistono persone che non la pensano come me e io sclero no è colpa loro che non sono unificati al mio pensiero perché questo è il concetto fondamentale il divisivismo questa parola il divisivo così brutta no è sostanzialmente questo se tu non la pensi come a me sei divisivo perché è un'idea tua e abbiamo visto che chi ha idee proprie non è visto di buon occhio in quelli che invece credono nel greggio del pensiero unico ed è importante non solo come concetto fine a se stesso del divisivo ma anche per il fatto che voi potete notare che è una di quelle parole che sono intercambiative le parole della cultura e dell'ideologia che sta diventando ormai predominante sia nei mass media che nella politica sono assolutamente intercambiabili cioè tu puoi usare la parola divisivo tanto quanto la parola razzista quando uno ti sta antipatico se dice qualcosa che non ti piace puoi tranquillamente attaccarlo dicendo sei razzista o sovranista o suprematista alla fine sono tutte parole intercambiabili che dovrebbero avere significati completamente diversi ma non gli importa perché l'importante è avere non più uno uno scontro sull'idea e quindi io non sono d'accordo con quello che dici e attacco l'idea ma è avere la possibilità di trasformare una qualsiasi discussione in un tribunale in cui attacchi la persona e a quel punto quella persona non si difenderà più sull'idea ma dovrà difendere a se stesso e così hai ucciso il dibattito e il dialogo questo è la realtà di quello che dicono e pensano giornalisti quando usano la parola divisivo che è e qui arriviamo poi alla notizia in sé però era era trovo che sia importante anche magari contestualizzare bene quello che è l'humus ideologico dietro alle parole che scrivono politici e giornalisti tant'è vero che poi i giornalisti soprattutto ci tengono tantissimo alla libertà di stampa il fatto che essa venga sempre difesa come uno dei baluardi della democrazia stessa la stampa libera e che viene rispettata dai politici e qui infatti ho sottolineato che sempre polli vice direttore di ansa diceva non si è mai visto un presidente d'america non rispettare i giornalisti e la stampa ora quindi veramente una cosa vergognosa trump che ogni tanto magari ha con quelli della cnn gli diceva tu mi hai fatto una domanda che parte da delle menzogne e poi racconterai delle altre menzogne sulla mia risposta cosa che assolutamente vero perché la cnn mente continuamente l'hanno ammesso anche loro fanno solo propaganda elettorale per il partito democratico però non ti puoi permettere di dirglielo è questo concetto se no anche all'ansa in italia vengono fuori con discorsi sul fatto che tu sei divisivo e che attacchi uno dei baluari della democrazia che è la libera stampa e qui veniamo scusate ci ho messo già cinque minuti solo per fare la premessa ma è importante come ho detto capire tutto quello che c'è il contesto perché adesso da un anno abbiamo finalmente quelli buoni gli unificatori quelli che rispettano il baluardo della pubblica e della democrazia che è la stampa sono unificatori sono il partito democratico c'è lo slogan partito sono democratici come fai a non crederci ecco come fai a non crederci prima notiziola del giorno biden beccato mentre dice delle parole un po scottanti guardate questa della siena fra l'altro chiamando un reporter stupido figlio di allora un reporter che gli ha fatto una domanda non è che gli ha detto gli ha fatto una domanda concreta su senza partire da dei presupposti ballistici o falsi come fanno quelli della siena gli ha chiesto semplicemente scusa ma il fatto che ci sia un esplosione totale dei costi in tutti i settori dall'alimentazione alla tecnologia ai costi dell'energia alla benzina può essere anche una questione di responsabilità politica per aver fatto questa domanda il presidente degli stati uniti quello che unifica l'america e il mondo intero sotto l'egida della bontà e del politicamente corretto ha detto ma guarda questo cosa mi chiede sto stupido figlio di putta e io mi sono visto adesso vi faccio vedere il giornale ma io mi sono andato a vedere proprio la conferenza stampa ok avete per caso visto i giornali italiani scandalizzarsi fare prime pagine mettendo anche una foto magari brutta come hanno fatto qui che hanno scelto una foto particolarmente brutta di trump per anche farti avere il link mentale fra la bruttezza morale di trump e la bruttezza fisica no prendi una foto brutta e quindi enfatizzi ancora di più avete visto per caso l'ansa il direttore dell'ansa a dire non si è mai visto un presidente degli stati uniti che dice stupido figlio di putta un giornalista in diretta no 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 perché se hai la maglietta giusta se hai il logo sulla maglietta con scritto partito democratico i giornalisti si fanno anche maltrattare il sindacato dei giornalisti non va sulle barricate se ti chiami joe biden ci va solo se ti chiami donald j trump ma come ho detto vi voglio commentare alcune notizie degli ultimi dieci giorni non ho finito ve la ricordate l'attrice vp goldberg quella che aveva fatto il bellissimo film insomma era molto conosciuta fra fine anni 80 e primi anni 90 aveva fatto sister act dove quel musical dove ci sono tutte le suorine che cantano era la medium o non so come chiamarla quella che pare con gli spiriti in ghost bellissimo film lei scordatevela quella l'attrice perché lei è diventata un'attivista politica fa un commentario diciamo con altre quattro donne che si chiama the view il punto di vista anche se in realtà lì non c'è non ci sono punti di vista c'è solo la vista che è la che è sempre la stessa e ha detto una cosa agghiacciante cioè lei anzi prima di nuovo ve la contestualizzano un attimo lei è una di quelli per cui qualsiasi cosa succeda negli stati uniti d'america è sempre colpa del razzismo anche quando non c'entra niente tutti i casi che vi ho elencato potete andare a vedere nei video vecchi di scazzo moderato in cui vi facevo vedere che il razzismo non c'entrava un bel niente e che era tutta propaganda del partito democratico malgrado questo lei giustamente essendo un'altra dei megafoni di questa propaganda tirava fuori argomenti sul razzismo eccetera i bambini vanno male in matematica colpa del razzismo un poliziotto salva una sedicenne che sta per essere accoltellata da un'altra sedicenne e spara all'aggressore o l'aggressitrice non so come si potrebbe dire in italiano all'aggressore uccide una con un coltello che è a mezzo metro da una ragazza innocente lei non dice ah però hai salvato una ragazza di colore bravo no dice sei un razzista perché ha ucciso una nera questa è wpp gold quando kyle rittenhouse un giovane che si è salvato da dei da dei pazzi scatenati che lo volevano ammazzare lei ha detto che quello era suprematista bianco è una di quelli che sempre comunque sulle barricate e ha sempre comunque lascia lascia ideologica del razzismo per infliggere le sue ideologie verso chiunque guardi il suo programma ora secondo wpp goldberg e lo potete vedere qua è stata sospesa da due settimane per aver fatto dei commenti sull'olocausto perché la signorina o la signorotta ormai perché è una certa età goldberg parlando della seconda guerra mondiale e dell'olocausto se ne è venuta fuori praticamente dicendo che hitler non era razzista che il massacro di 6 milioni di ebrei più tutti anche gli zingari più gli omosessuali tutti quelli che sono finiti nei campi di concentramento nazisti in realtà non ha niente a che fare col razzismo perché erano bianchi contro altri bianchi quindi per lei siccome i bianchi sono tutti uguali e sono sempre colpevoli di qualsiasi cosa il razzismo esiste solo fra bianchi contro neri non c'è altra forma di razzismo quello era sì vabbè un po di violenza quindi sostanzialmente qualsiasi argomento qualsiasi situazione chiunque è sempre intrinsecamente razzista tranne hitler e la germania nazista è una cosa così stupida e così altraggiosa che viene quasi da ridere a pensare che uno l'abbia detta veramente eppure lei l'ha detto nel paese dove i democratici insegnano il rispetto per tutti ogni minuto della giornata vp goldberg se ne viene fuori dicendo una cosa del genere e il massimo che è successo è che l'hanno sospesa dal programma per due settimane quando fosse stato chiunque altro sarebbe stato così tanto massacrato che la televisione che gli dà il lavoro l'avrebbe licenziato immediatamente ma non di nuovo se hai la maglietta giusta se hai la maglietta giusta una tiratina di orecchie ti fai due settimane di vacanza e poi tornerai ho finito no perché questa america dove non ci sono più i divisivi ma ci sono gli unificatori non è solo nei programmi televisivi ma è anche nelle grandi star di hollywood ve la ricordate susan sarandon la insomma attrice anche lei che in passato è stata una delle leggende di hollywood che ha fatto tantissimi film uno su tutti telma louise film in cui proprio era l'apoteosi del nuovo femminismo delle donne che si ribellano agli uomini quindi punto di riferimento non solo artistico ma anche culturale cosa dice susan odio tutti sarandon susan sarandon si 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 scusa per aver fatto un tweet poco sensibile insensibile ora sapete cosa ha fatto susan sarandon alcuni giorni fa dei poliziotti durante una normale operazione di polizia che vi ricordo per per quelli che magari hanno problemi a capire i ruoli nella società di chi deve lavorare perché gente che magari non ha mai lavorato nella propria vita i poliziotti servono a difendere le vittime a mantenere l'ordine e a limitare il male che possono fare le persone che sono oggettivamente cattive e che se ne fregano dell'incolumità altrui due poliziotti nella funzione di tutti i loro doveri vengono uccisi da dei criminali quando due poliziotti vengono uccisi si si fa un funerale come per tutti gli esseri umani dove le famiglie soffrono dove i colleghi ricordano insomma il caduto dove la società stessa si interroga in che mondo vive se dei poliziotti vengono uccisi così facilmente in america anche se in italia non si parla mai perché in italia ovviamente ti parlano solo di quando il singolo poliziotto una volta all'anno uccide il singolo nero una volta all'anno non ti parlano di tutti i giorni quando i poliziotti vengono ammazzati quello quello non interessa non fa non è con non confà alla narrativa ovviamente lei ha scritto ha fatto un post pubblicando la foto del funerale con le bare la gente che piange il dolore delle famiglie scrivendo se volete sapere nel 2022 come fatto il fascismo eccovi una foto secondo susan sarandon star di hollywood rispettatissima da tutti i liberal del mondo della cultura dello spettacolo della televisione eccetera un funerale con le famiglie che piangono due poliziotti che stavano cercando di difendere della gente da dei criminali quella foto è un esempio del fascismo che c'è oggi in america una roba che è non lo so ditemelo voi ditemi voi se è oltraggiosa vergognosa schifosa disgustosa eppure eppure questa questa negli ultimi 10 giorni solo negli ultimi 10 giorni è l'america dei buoni di quelli che credono nel dialogo nelle idee aperte quelli che zompettano fra una nuvola e l'altra fatta di zucchero filato no questa è la realtà l'odio gente che festeggia nel vedere poliziotti morti e li chiama fascisti gente che dice chiunque è razzista tranne hitler come vp goldberg presidenti che dicono stupido figlio di a giornalisti e nessuno si scandalizza perché questo va bene così questo è il mondo in cui viviamo oggi è una cosa vergognosa una cosa che mi fa andare fuori di testa non solo loro stessi ma il fatto che si sentano autorizzati che sia normale dire delle cose del genere e che la stampa tolti pochi casi lasci andare lasci andare perché sono troppo impegnati ancora a parlare dell'assalto a capitol hill o adesso a dare dei dei nazisti rivoluzionari se le peggio col populisti ovviamente neanche dirlo ai camionisti del canada il problema dell'occidente adesso sono i camionisti del canada magari faremo un altro video su quell'argomento che questo video sta già durando troppo spero di avervi dato qualche informazione utile qualche spunto di riflessione sui veri valori morali che muovono l'ideologia progressista di oggi e questi sono questi quelli che vi ho appena mostrato non le chiacchiere su chi dice noi vogliamo unificare questi sono i veri dividiti nient'altro ci vediamo al prossimo video state informati ciao